finora abbiamo lavorato sempre su forme su forme geometriche abbastanza semplici ora vediamo come fare qualcosa di un pochino più complesso partiamo sempre da un rettangolo colorato se io voglio modificare questo rettangolo posso deformarlo ingrandirlo ridimensionarlo però resta sempre un rettangolo ecco se uso questo strumento che si chiama modifica modifica tracciati ecco questo permette diciamo delle modifiche al bordo proprio al tracciato al contorno dell'oggetto se per esempio ecco clicco su questi pallini vedete che si modifichano un po i bordi da un rettangolo diventa un rettangolo con gli angoli smussati più o meno smussati a seconda di quanto sposto questo queste due palline mi posso smussare di qua e di qua vedete ingrandisco un po quindi arrotondamento in questo senso arrotondamento nell'altro lato ok questi invece sono semplici maniglie per ingrandire e rimpicciolire però fondamentalmente il mio oggetto rimane sempre un rettangolo quindi è un rettangolo con gli angoli più o meno arrotondati ma è sempre un rettangolo se voglio fare delle modifiche un po un po più pesanti devo trasformare il mio rettangolo da da oggetto a tracciato infatti c'è un comando su tracciato che mi dice da oggetto a tracciato se clicco qui ecco vedete che sono comparse dei quadratini questi quadratini si chiamano maniglie e adesso il mio il bordo in pratica è completamente modificabile io posso prendere una di queste maniglie una sola e lo posso deformare completamente queste maniglie hanno delle dei punti di diciamo di modifica che sono questi attorno ecco queste maniglie le posso anche modificare attraverso il sottomenu che ho qua in alto per esempio se clicco qui ecco me ne compaiono due uno da un lato uno dall'altro ecco secondo di quanto tiro queste maniglie diciamo secondarie deformo l'oggetto in certo modo più lo tiro più diventa arrotondato meno è lungo più è spigoloso vedete poco molto spigoloso tiro molto arrotondato ecco quindi utilizzando trasformando l'oggetto in un tracciato e modificando queste maniglie posso deformarlo in maniera abbastanza sofisticata ok vedete posso aggiungere dei punti di ancoraggio per esempio prendo questo strumento e aggiungo mi metto qua in mezzo faccio clic e lui aggiunge un punto in mezzo mi metto qui faccio clic qui e aggiunge un punto eccolo qui se voglio togliere un punto tipo voglio togliere questo punto lo seleziono faccio un clic e faccio meno e lui lo toglie il tracciato può essere spezzato può essere aperto e quindi seleziono una maniglia e questo comando mi dice da una maniglia intera ne ottengo due cioè lo spezzo in due quindi clicco qui e lo spezzato in due parti adesso vedete che si può aprire posso anche riunirli quindi queste e questo allora li seleziono entrambi facendo o così cioè facendo un rettangolo che li circonda oppure cliccando tenendo premuto shift e poi dico che da due ne voglio una quindi faccio così e lui le riunisce posso dire che voglio questo maniglia spigolosa allora clicco qui lui me la fa spigolosa la voglio rotondata clicco qui e quindi riesco a modificare il mio tracciato in maniera molto precisa sofisticata e ho sempre una bella forma molto piacevole da vedere poi ricordiamoci sempre comunque le maniglie per ingrandirlo rimpicciolirlo se clicco due volte posso ruotare ok posso ruotarlo per spostarlo basta che vada con la con la freccia e ci clicco sopra lo sposto infatti compare il simbolo di una mano lo posso spostare però così facendo sposto il singolo oggetto rispetto a un altro che è vicino tipo rispetto a un cerchio ok quindi con la freccia lo sposto e basta se premo la rotellina del mouse sposto tutto compreso il foglio quindi in pratica è come se spostassi solo lo sguardo quindi niente si muove nel foglio sono io che mi muovo con lo sguardo ora iniziamo a utilizzare uno strumento molto importante in inkscape lo strumento si chiama disegna tracciati e linee dritte ed è questo qui esiste anche la matita e anche la penna calligrafica però di questi tre quello più utile alla fine è questo in mezzo la matita serve più che altro per fare disegni a mano libera però i disegni non vengono disegnare a mano libera col mouse è un po' un po' difficile spesso magari poi sono sono anche un po' irregolari sono non vengono insomma bene quindi la cosa migliore è utilizzare sempre questo strumento si chiama disegna tracciati e linee dritte per fare un esempio proviamo a disegnare dei petali cioè proviamo a fare un semplice fiore e vediamo come funziona allora facciamo il centro del fiore facciamo giallo e i petali li facciamo rossi invece quindi prendo questo strumento prendo 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 lo strumento vabbè comincio a disegnare allora lo strumento funziona così se faccio solo clic lui fa linee dritte e angoli spigolosi se clicco e tenendo premuto il tasto trascino lui disegna una tangente più o meno lunga secondo di quanto trascino e di conseguenza mi arrotonda la linea in quel punto quindi clicco e trascino clicco e trascino clicco e trascino tasto destro e lui riempie poi tutto adesso questa era una forma irregolare proviamo a fare dei petali allora dove clicco e basta verrà un angolo spigoloso dove clicco e trascino viene arrotondato quindi parto da qui contro ho zoomato un po facendo contro rotellina allora clicco e trascino e facciamo il primo petalo poi torno qui faccio un clic così viene un angolo spigoloso circa 45 gradi clicco e trascino facciamo il secondo petalo torno qui clicco e trascino terzo petalo clicco e trascino quarto petalo clicco e trascino quinto petalo clicco e trascino settimo petalo 367 clicco e trascino l'ottavo petalo ok è sparito il centro del fiore giallo perché questo si è messo sopra quindi vado su su sposta diciamo riordina gli oggetti lo sposto in basso e ricompare il mio centro adesso è venuto tutto nero me lo voglio rosso ecco adesso diciamo di petali abbastanza decenti però vedo che non sono tutti regolari li voglio aggiustare un po allora prendo lo strumento che sta qui sotto che si chiama modifica tracciati e vedete che sono comparsi cioè si vedono i nodi i nodi quindi sono i punti dove io ho cliccato col mouse e li posso riposizionare quindi tipo questo lo rimetto qua sotto anche le maniglie posso spostarle questo punto lo metto un po più in alto questo lo metto un po più sopra questo lo tiro un po di più così viene un po più rotondato questo lo allargo un po' questo lo stringo un po' ecco insomma adesso non è perfettissimo ma è già un fiore abbastanza decente ok quindi utilizzando lo strumento selezione modifico tutto tutto l'insieme se uso questo strumento invece se modifica tracciati lavoro proprio sui nodi sui nodi dei tracciati o trascinando il nodo o modificando le maniglie del nodo qui bisogna fare un po di prove a mano libera che più che diciamo spiegare bisogna provare e capire un po' come funziona e quindi questo è uno strumento molto utile poi posso raggruppare i due oggetti quindi tenendo premuto lo shift seleziono sia il centro sia i petali faccio raggruppa oggetto raggruppa ok adesso praticamente è un oggetto unico che posso ridimensionare posso faccio due clic posso ruotare e ho fatto il mio fiore ora proviamo a rendere il fiore un po' più carino gli faremo un bordo un doppio bordo colorato e un gambo verde con una fogliolina allora innanzitutto avevo bloccato avevo raggruppato il centro con i petali li devo sgruppare perché voglio lavorare adesso solo sui petali voglio dare un bordino ai petali quindi faccio faccio ingrandisco un po' però ho fatto contro rotellina non l'ho realmente ingrandito vado su oggetto riempimento e contorni eccomi compare questa paletta allora riempimento mi dice che è rosso infatti vedo che sono tutti rossi il contorno adesso non c'è infatti è attivo questa x invece gli dico che voglio un contorno colorato ok adesso lui mi dà questo viola è anche molto grosso allora diciamo che io voglio un contorno di colore sul blu un bel blu acceso però più sottile quindi vado sullo stile contorno e rimpicciolisco oppure inserisco il valore ecco un bordo di due pixel ok però adesso vorrei vicino anche un altro bordino di un altro colore come posso fare per fare questa cosa questo è un po più difficile allora ogni tanto salvo ok ogni tanto ricordiamoci sempre di salvare almeno se ci va bene se se non ci piace no però quando va bene possiamo salvare allora seleziono i miei petali faccio una copia quindi modifica copia modifica incolle in origine incolle in origine praticamente lui la mette una copia esattamente sopra l'altra ok la messa sopra di tutto per cui adesso il pallino giallo è finito sotto ma non importa questo gli diamo un colore del bordo diverso lo facciamo un colore contorno verde ok lo portiamo sotto sotto di tutto adesso non lo vedo perché è finito sotto di tutto però lo ingrandisco un po allora vado su tracciato e gli dico per esempio proiezione dinamica proiezione dinamica lui cosa fa prendiamo questa maniglia ingrandisce l'oggetto giusto giusto proprio sul bordo cioè aumenta il bordo in pratica di un tantino a seconda di quanto io trascino questa maniglia che compare quindi viene fuori ecco un doppio bordo abbastanza carino compare del rosso qui perché c'è all'interno che era rosso allora facciamo così il riempimento lo togliamo ecco per cui è scomparso anche il riempimento e adesso abbastanza carino contro rotellina lo rimpicciolisco adesso posso raggruppare tutto questa cosa quindi seleziono tutto seleziono tutto faccio oggetto raggruppa e adesso ho un'unica cosa raggruppata bella voglio fare un gambo gambo verde allora prendo sempre il mio strumento disegno a tracciate e linee quando usiamo disegno a tracciate e linee dritte tra le varie opzioni mettiamo modalità la prima cioè bezier normali e forma nessuno ecco quindi si dobbiamo fare attenzione alle opzioni allora eliminiamo sta cosa rifacciamo allora strumento clicco un nodo un po tondo la fine del gambo tasto destro ok io ho fatto il mio gambo faccio un po più grosso in stile contorno facciamo un po più grosso ok è un po più scuro quindi colore facciamo un verde verde un po più scuro così poi il gambo sta sotto non sta sopra quindi strumento selezione e lo porto sotto di tutto ok salvo poi faccio una fogliolina allora prendo sempre lo strumento disegno a tracciate e linee dritte la posso fare anche grande e dopo la rimpicciolisco e la metto qua quindi magari la disegno qui in grande accanto e dopo la piazza lì vicino allora la foglia è fatta più o meno così ok più o meno così quindi questi due punti ho solo cliccato qua invece dove ci sono le pance dove c'è la curva ho cliccato e trascinato e mi è venuto fuori una specie di foglia però la riempiamo di verde quindi riempimento colore facciamo un verde chiaro un po più chiaro così e adesso la rimpiccioliamo rimpiccioliamo la ruotiamo e la mettiamo sul fiore ok e adesso ho la mia bel fiorellino raggruppo tutto oggetto raggruppa e questo è il mio fiore voglio mettere più fiori vediamo un altro comando importante allora tolgo questo voglio fare un prato un prato di fiori allora facciamo un prato facciamo un rettangolo verde però lo modifico un pochino per cui lo trasformo da oggetto a tracciato e con queste maniglie aggiungiamo magari dei nodi in mezzo eccolo qui lo modifichiamo un po' lo arrotondiamo un po' quindi diventa un prato un po' ondulato eccolo qui un prato ondulato e togliamo anche i bordi sentimento e contorni colore contorno nullo così viene un prato normale poi prendo il mio fiore e ne voglio mettere tanti allora come si fa a duplicare velocemente un oggetto è molto semplice prendo il mio oggetto in questo caso il fiore e quando voglio fare una copia faccio faccio un click con la barra spaziatrice della tastiera un click un click un click e basta che ho riempito tutto poi magari per cambiare ne posso ridimensionare così faccio finta che i fiori siano un po' diversi uno dall'altro questo lo ridimensioniamo questo lo ingrandiamo magari lo invertiamo così sembra diverso ecco lo giriamo dall'altra parte questo lo ridimensioniamo un po' ecco qua ho fatto un bellissimo prato di fiori velocemente ci ho messo pochi minuti e ho fatto una cosa molto carina quindi vedete è molto semplice da utilizzare ci sono alcuni comandi da un po' da imparare ma è molto facile per duplicare avete capito quindi prendo l'oggetto barra spaziatrice un colpetto un colpetto di barra e il mio oggetto si duplica e dopo posso sempre modificarli ecco qua altri fiori ok salviamo il tutto e abbiamo un bellissimo prato fiorito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti